E' stata adottata in questi giorni dall'ASP, retta dalla Commissione straordinaria Meloni-Ippolito-Giordano, il programma attuativo aziendale per il governo delle liste d'attesa. Uno strumento attraverso cui si cercherà di dare risposta accettabile ad un problema più che serio, quello delle liste d'attesa. Un punto di partenza drammatico, il governo delle liste d'attesa, si legge rapportato alle caratteristiche del nostro sistema sanitario nazionale, viene svolto con notevoli difficoltà. Ha cresciuto ancora più nella nostra regione, sottoposta ormai da anni al piano di rientro dal debito sanitario. Un intero capitolo del rapporto riguarda il centro unico di prenotazioni, dove dovranno essere trasferite tutte le agende a gestione diretta e quelle dell'attività libero professionale. Prevista anche l'implementazione di una serie di procedure informatiche, comprese quelle sui controlli e sul monitoraggio delle liste d'attesa, i cui tempi dovranno essere pubblicati sul sito web aziendale. Il documento individua così 69 prestazioni per le quali si impone un tetto massimo aziendale di risposta, 30 giorni per la prima visita specialistica, 60 per le prestazioni diagnostiche. Si va così dalla visita all'esame radiologico, passando per ecografie e risonanza magnetico. Tutto sarà sottoposto ad un monitoraggio costante.